Io avevo nella testa una musica ben precisa, Erika Provinsano ha capito al volo quale fosse l'intenzione profonda che c'era dietro e ha composto delle musiche originali di quelle che arrivano proprio dirette. Il mio passato da coreografa, lo sono ancora oggi, mi rendeva esigente ma conoscendo il talento e la serietà professionale anche di Paola Leste ho voluto affidare a lei questa difficoltà. Quando ho visto il Parkinson realizzato in un balletto sono stata confermata che la scelta era ottimale. Ho la fortuna di essere accompagnata da un cast meraviglioso, sono tutti ragazzi giovani, dinamici, pieni di talento, di voglia di fare, di passione per questo lavoro, hanno fatto subito gruppo e questa coesione si vede, si trasmette, il pubblico la sente, la percepisce. Io sono sempre stupita, ci sono momenti in cui ancora mi commuovo, c'è la scena di sterile, di questa donna sterile che si apre alla vita, è una cosa che non può non toccare il cuore di ogni donna, è poesia, è poesia.